Nuovo, lungo, sopra luogo della polizia scientifica nell'abitazione di via Corbara dove è stata uccisa Ilegna Fabri. Anche nel pomeriggio di venerdì le squadre di Ravenna e Bologna, coadiuvate dal nucleo speciale arrivato appositamente da Roma, sono tornati sul luogo del delitto per cercare di completare l'identikit dell'assassino della donna uccisa sabato mattina all'alba. Dentro l'abitazione con le forze dell'ordine ha anche il perito incaricato dagli avvocati dell'unica persona attualmente iscritta nel registro degli indagati, l'ex marito di Ilegna, Claudio Nanni. Nella giornata di ieri è stato confermato il rinvenimento di una macchia di sangue appartenente all'assassino. L'uomo è stato descritto dall'amica della figlia della 46enne come alto e robusto. Cercando fra le immagini delle telecamere private di videosorveglianza delle varie abitazioni attorno a via Corbara e via Testi, gli investigatori della polizia sembra abbiano trovato un'immagine di un uomo che potrebbe rispondere alla descrizione. Presente in zona prima delle 6 di mattina, quando è avvenuta l'intrusione in casa, ma sono ancora necessari ulteriori accertamenti per capire se si possa trattare veramente dell'aggressore o se invece sia soltanto una falsa pista. Ancora da stabilire con prove certe poi come l'assassino sia entrato in casa vista l'assenza di segni di effrazione. Arianna, la figlia di Legna, ha infatti dichiarato alla polizia di aver chiuso la porta sul retro a chiave. La porta, trovata aperta dagli agenti di polizia, corse sul posto al momento della telefonata alla centrale operativa. Si sospetta che l'omicidio avesse a disposizione un altro mazzo di chiavi, ma si tratta di un'ipotesi ancora da dimostrare. Nel frattempo è emerso che Claudio Nanni ha ammesso di non sapere che la mattina nella quale è andato a prendere la figlia in via Corbara per recarsi insieme a Milano, la mattina dell'omicidio, l'amica della figlia, l'unica testimone, fosse rimasta in casa insieme a Legna. L'uomo è attualmente indagato, ma libero, per omicidio in concorso con il sicario. Omicidio pluriaggravato vista la premeditazione, i motivi abbietti, ovvero i motivi economici, la richiesta di 100.000 euro da parte di Legna Fabri e la relazione coniugale.